Bene carissimi amici e amiche, salve a tutti, ben ritrovati sul canale. Bene, facciamo un aggiornamento anche su un altro caso che stiamo seguendo, è quella della stranissima morte, dello stranissimo incidente, oserei dire, di Lucia Salcone, San Severo in Puglia, per il quale è indagato il marito Ciro Caliendo. Qual è la novità che ci spinge oggi a fare questo video di aggiornamento? Semplicemente che più vanno avanti i lavori dell'autopsia, dei medici legali, più emergono indiscrezioni che vanno ad aggravare in qualche modo la posizione di questo marito, che diventa sempre più indifendibile. Perché? Perché dalle perizie anche sull'andatura della macchina, sui danni che ha ricevuto la macchina, troppe cose non tornano. È stato accertato che la macchina andava con una velocità ridotta dai 30 ai 40 km all'ora, quindi voglio dire poco più di una bicicletta, parliamoci chiaro. E allora dai 30 ai 40 km all'ora. Per cui già questa è una velocità ridotta per un'autovettura. Poi si dice che esce fuori strada, abbatte dei paletti e quasi si appoggia vicino a un albero che non ha alcun danno, ecco diciamo così. Quindi questo fatto non fa ovviamente esplodere nemmeno gli airbag, perché questo impatto non c'è. E allora cosa succede che all'improvviso questa donna rimane nella macchina? La macchina prende fuoco. Voi avete capito? Cioè che cosa si dovrebbe credere appunto? Che la donna rimane lì, sviene, perché cosa? Non si sa perché dovrebbe svenire anche per un piccolo impatto, diciamo così. Dopodiché cosa succede? Prende fuoco. La macchina era diesel, per cui già la macchina, non si sa perché doveva prendere fuoco di cosa, ma anche se fosse stato, soprattutto con il diesel, la macchina per prendere fuoco ci sarebbero volute molte, molte, molte minuti per dire. Allora lei poteva scendere, dice ma quella è svenuta così. Allora il marito che dice di essersi salvato, eccetera, eccetera, ma per quale motivo poi, ecco, non avrebbe preso la moglie e tirata fuori, visto che la macchina non è che era accastocciata, non è che è rimasta incastrata nelle lamiere come succede a volte in questi incidenti così tragici, no? Che magari la vittima è incastrata nelle lamiere, non si riesce a salvare, magari l'autovettura prende pure fuoco, ma nei grandi incidenti. Questo è così. E i soccorsi chiamati due o tre ore dopo. E lui, addirittura c'è una versione, io ho letto, non so se è vera, che lui per giustificarsi dice no, io poi sono svenuto, poi quando mi sono ripreso ho visto che la macchina prendeva fuoco, ma siamo scherzati. Poi cosa esce? Ecco la novità, diciamo, sostanziosa. Emergono queste lesioni alla testa, forti, una testa spaccata, ma non in un punto, in due punti, capite? Cioè, una testa rotta, delle fratture alla testa, in due punti differenti, capite? Ed è una cosa inaccettabile, perché siamo di fronte a quasi nessun impatto, o un impatto lieve, che ti propone due fratture alla testa. Ecco perché poi c'è tutta una, c'è un'indagine che mira a stabilire le cause e si può pensare, nell'ottica omiciliaria, che questa donna a un certo punto sia stata uccisa fuori dalla macchina, sia stata uccisa a casa e poi è portata lì. Perché la versione ufficiale di questo marito, Ciro Caliente, dice, sono andato a prendere mia moglie che c'era stata questa serata in pizzeria con le amiche di danza, scuola di danza, questa roba qua, e stavano, e tornavano a casa. Poi, ecco, molte ore dopo, si dice no, noi prima di arrivare a casa avevamo fatto questa deviazione per dei terreni, per dei vigneti, per andare a venire, ossia sorvegliare dei vigneti, perché c'era stata qualche ammanco, qualche, insomma, qualche cosa che non era andato per il resto giusto in quei vigneti, e quindi lui dice, io ho fatto quella deviazione notturna, perché voi verificare i vigneti di notte, ma con quali strumenti, con delle torce, va, è strano, è strano, va bene? Ma, per come è stato trovato il corpo, per queste lesioni che stanno emergendo, gli inquirenti ipotizzano che ci sia stato qualcosa di diverso. E di diverso intendo dire, o un omicidio fatto a casa, cioè con l'autovettura che giunge a casa, e quindi nell'ambito casalingo avviene questo delitto, e poi l'ha messo in scena, per cui, ecco, che anche a casa sono stati fatti tutti i rilivi della scientifica, e tutto, oppure che si è scoppiato un litigio in macchina, che magari fuori dall'autovettura sia avvenuto qualcosa, quindi l'omicidio, e poi il corpo di messi in auto, in auto per fare questa messa in scena. Purtroppo, il fatto che questa donna, capite, sia stata praticamente quasi semicarbonizzata, e non abbia avuto il tempo, ma poi ci sono tracce di, sembra di, forse benzina, non si sa, all'interno dell'autovettura, se dovesse essere benzina, guardate che vuol dire che proprio ci sono tracce di qualcuno che ha piccato il fuoco, perché la macchina era diesel, se vi sarà confermato questo elemento, l'azresto sarà imminente, quello del marito. Questo è, ho letto pure su altri organi di stampa, che forse lui, per questa eventualità, si sarebbe ulteriormente giustificato, dicendo, no, ma portarsi lì in auto, avevo delle lattine di benzina per i lavori agricoli, a parte che, giustamente, come è stato fatto notare anche in tv, quasi tutti, perlomeno, i macchinari usati lì nei lavori agricoli funzionano a diesel, quindi a gasolio, e quindi, se ci sarà l'uso della benzina per l'innesco, certamente non si potrà dire che la benzina postata in macchina dovesse essere per uso agricolo. Poi, se dovesse essere ancora di più acclarato che c'era benzina, vuol dire che addirittura è un delitto premeditato, premeditato, ma stiamo scherzando? Io non lo so, sapete, di solito sono molto garantista sulle cose, perché bisogna esserlo, però vedete, come sensazione, mi dispiace dirlo, come sensazione qua è un'offesa all'intelligenza, è un'offesa all'intelligenza, non si può credere che sia avvenuto questo, anche perché poi ci sono tutte le voci, tutte le voci di litigi, le amiche che escono fuori a dire lo doveva lasciare prima, quindi è un quadro familiare non troppo buono. Ecco, allora, detto ciò, come si può pensare, senza essere offesi nell'intelligenza, che questa macchina parte, marito e moglie, vanno verso casa, poi fanno la deviazione, vanno a una velocità accettata tra i 30 e i 40 km all'ora, quindi proprio una passeggiata, poi mettiamo che, chissà per quale motivo si esce fuori dalla caseggiata, e notiamo un'altra cosa, perché abbiamo visto lo stato dei luci, non è che la macchina precipita in un burrone, attenzione, era una zona praticamente semi pianeggiante, per cui la macchina esce fuori dalla sede stradale, ma si adagia in un terreno pianeggiante, ecco, cioè non pensiamo che sia precipitata, quindi, no, la macchina, diciamo, esce fuori strada in un terreno, un terreno pianeggiante, e praticamente si va a appoggiare a un albero, non c'è alcun tipo di impatto violento, non c'è la carrozzeria che si è danneggiata, non sono esplosi gli airbag che in automatico esplodono, se c'è un impatto, quindi, se fosse anche vero questa cosa di uscire dalle radeggiate, e andare così a appoggiarsi contro un albero, com'è? Succede questa piccola uscita di strada, e prende fuori la macchina come se fosse una bomba, e poi, anche che fosse stata una bomba, Dio non voglia, sarebbero morti tutti e due gli occupanti, non che un occupante non ha nulla, se non qualcuno ha le mani, chissà come è provocata, e lei è carbonizzata, ecco, non è credibile, è un'offesa all'intelligenza, credere che all'improvviso scoppi, anche che per una ragione, qualsiasi ragione, ci fosse stato un innesco, comincia il fumo, comincia così le piccole fiammelle, quindi per arrivare un incendio, ci vogliono dieci minuti, la donna non può aver avuto alcun tipo di danno grosso, poteva scendere, poteva comunque essere tirata fuori, in qualsiasi modo, anche dopo uno svelimento, per dire, non è stato fatto, poi, vai a vedere in testa, due grosse lesioni, quindi la testa spaccata in due punti, allora, non parliamo più di queste cose, non parliamo più, io mi aspetto un arresto imminente, imminente, i giudici ci vanno piano, perché vogliono, come dire, raccogliere i dati definitivi, dell'autopsia, e delle, e quelle tecniche, relativa alla macchina, e al combustibile usato, per l'incendio, poi, la testa di cito caliente, per me, sarebbe, inevitabile, inevitabile, come, perlomeno come, la valuto io, da quello che risulta, quindi, teniamoci aggiornato, pure per il caso, di Lucia Salcone, condividete il video, con gli amici, le amiche, e un abbraccio, a tutti quanti voi. Grazie.